ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di proviamo cose nuove finalmente dopo più di anni un anno vi porto le promo della poster quelle diciamo italiane che ho trovato in questo periodo e vincere saltina o più di un anno che le poste quindi c'è e mi sa che qualche altrattina e sa quando passerà prima che andrà ad aprire quella di oggi l'ho trovata come vi avevo detto ai tempi nel negozio all'ingrosso mini cash a cinese fortuna che ho avuto perché ripeto non trovavo nei supermercati non pensi di trovare una promozionale io provi sarà la linguetta nera visto il disegno l'ho presa subito chiaramente ed è una promo di apex legend adesso comunque cambierò ricordatura non è l'entere questa lattina e progettamente andrò ad aprire ok rieccomi ora non so se di questa in italia hanno fatto anche la ultra la mango perché le ultime che stanno uscendo in questo video che questo è stato a gennaio però diciamo che ottobre sono state annunci di vedere come promo io già le ho reperite non vengono fatte vedere forse già le ho fatte vedere già qualche settimana fa ho trovato solo la classica ma la ultra e la manga hanno fatto solo la linguetta di quali che ho trovato quindi non so se di queste esistono col disegno o senza perché se esistono senza disegno ben vengo fatto bene per fortuna non trovarle se esistevano beh è un peccato devo dire qua abbiamo monster energy come possiamo leggere qua una classica latte animosa non sembra che cambia nulla sulla destra diciamo che abbiamo le classiche cose per cui praticamente poi nata abbiamo tutti quanti gli ingredienti dopodiché poi abbiamo in basso abbiamo i valori nutrizionali perché scosto per video e chiaramente legge non mette tanto a fuoco il produttore di questa lattina è campà poco abbiamo la scantata la raccolta differenza del metallo la tenda 500 ml poco abbiamo la riproduzione di questa lattina e nient'altro scorrendo sulla destra poi abbiamo tutta la trascrizione per quanto riguarda la promozionale di a pezze leggende infatti qua abbiamo poi scopri in di più su most energy.com a pezze legge col disegno di rette maps leggende qua abbiamo chiaramente tutta quanto riguarda l'informazione per partecipare a tempi del concorso il concorso chiaramente ha terminato il 31 marzo 2023 quindi vedete bene che quindi già è scaduto da un anno il concorso l'attina penso che comunque non sia scaduta dovrebbe essere ancora verificamente allora questa lattina è stata prodotta è a giugno 2022 come se leggere qua e lo scuro è 06 22 quindi giugno 2022 e poco abbiamo la scritta respawn and endement forse riguarda sempre il gioco di a pezze leggende altre caratteristiche possiamo notare abbiamo poi taurina più ginseng e più vitamine b e poi più l carnitina e poi qua si ripete la stessa scritta di prima scadenza questa lattina è scaduta si è scaduta non mi aspetto è scaduta praticamente a settembre 2024 la sto consumando anche scaduta perché la sto consumando il 13 di novembre quindi si è scaduta a due mesi però essendo solo due mesi dovrebbe essere comunque rimasta intatta in toria dentro diciamo tre vada quattro mesi forse anche cinque mesi dovrebbero conservarsi bene le bevande se sono conservate bene cioè se sono conservate perfettamente anche di più chiaramente come diceva una promozionale abbiamo ancora della lattina normalissima colorazione alluminio con la linguetta nera sicuramente sotto la linguetta poi abbiamo chiaramente il codice promozionale per partecipare al concorso di a pezze leggende ok adesso la vado ad aprire attina comunque non ha nulla di particolare non è rubita e liscia normale come le altre monster classiche ecco forse posso far vedere il codice da qui e non si interviene tanto bene penso che non si vede no ma non siete proprio fattiva ok l'odore ottimo quindi si è conservata logicamente perfettamente non mette fuoco una classica monster classica quindi bene adesso comunque cambierò continuamente la transferenza è sempre quella leggermente sparente colorazione colore quella che deve essere guarana e come una energetica comunque classica non ha fatto tantissima schiuma quindi si non sembra essere molto cassata adesso cambio in curatura la vado a provare ok rieccomi qua adesso la vado a provare logicamente il voto dovrebbe spiegare lo stesso sembra diversa non lo so accendo una promozionale sembra diversa dalla classica forse il fatto che comunque diciamo che non non bevo quasi una classica a parte comunque in caso eccezionali per i video forse a volte l'assenza di bella per un po di tempo mi cambia un po la percezione del gusto della classica sembra essere diciamo come dire non so dire se ti assada troppo assai o persino chimica ma penso che sia comunque da sala chimica mi pare che non abbiamo detto quasi con nessuna monster che si deve essere una bevanda chimica quindi pensa da sala troppo e basta monster energy promozionale apes legend italiana logicamente voto finale per me otto e mezzo su dieci non do spiegazioni d'otto e mezzo perché semestre leggermente un po troppo cassata per il senso comunque il gusto è ottimo e buona e gusti buonare intenso e la prona comunque deve essere ottimo quindi niente da dire se questo vi è piaciuto vi lascia un mi piace e noi ci vediamo alla prossima ciao ciao